Quindi alcuni studenti dell'IVA in Piana possono soffrire di questa occasione? Certamente, quest'anno al Piana è partita un'attività molto molto interessante per quanto riguarda il futuro lavorativo dei nostri studenti della classe terza di meccanica, ovvero abbiamo stilato una convenzione con una ditta locale, Iseo Serrature, per cui i nostri studenti dal mese di febbraio al mese di luglio sono impegnati presso l'azienda per tre anni, quindi dalla terza fino alla classe quinta, in un'attività di alternanza scuola-lavoro. È chiaramente ovvio che per questi 20 studenti è un'occasione in un momento particolarmente complesso per quanto riguarda le possibilità lavorativi che sono garantite ai nostri giovani dopo il diploma. Perché? Perché la ditta si impegna non solo a formarli per un triennio, ma anche ad assumere coloro che verranno selezionati. È di auspicio nostro e della ditta quello che i 20 ragazzi selezionati in partenza siano poi tutti selezionati a fine ciclo di formazione. In caso contrario, comunque, per coloro che avranno vissuto questa esperienza per un anno o due, sarà comunque un'esperienza inseribile nel curriculum vitae dello studente nel momento in cui si affaccerà al mondo del lavoro. La stessa esperienza di alternanza la stiamo facendo in tutte le classi terze dell'istituto. Certo, non si tratta di un'esperienza triennale, ma dell'esperienza biennale di alternanza e questo naturalmente garantisce ai ragazzi la possibilità di farsi conoscere dalle ditte locali. Un altro aspetto importante che va considerato è che i ragazzi, ad esempio, di quarta sono impegnati durante il periodo estivo in stage lavorativi e con ditte locali. Anche questa è l'ennesima vetrina per i nostri ragazzi. È importante il ruolo anche del partner, quindi di questa azienda? Certamente, noi abbiamo organizzato diversi incontri tra le famiglie, il referente scolastico, tutor dell'alternanza e l'azienda. Per quale motivo? Perché naturalmente nel concreto ci sono delle azioni mirate che stanno alla base dell'attivazione di un progetto di così alto livello. Innanzitutto, in questi incontri abbiamo informato le famiglie dell'attivazione di un percorso di formazione di otto ore sulla sicurezza tenuto dall'azienda stessa. E inoltre, siccome i ragazzi saranno impegnati per un'intera giornata a settimana e un intero pomeriggio, si necessita la presenza di mezzi di trasporto per trasferire i ragazzi dalla scuola Ivampiana, nella mattinata dove sono presenti appunto per le ore di lezione, alla ditta. Pertanto, ci sarà un servizio di Pullman che accompagnerà i ragazzi presso la ditta per svolgere l'attività di alternanza. L'azienda, naturalmente, si fa un po' da capofila in questo tipo di attività a livello zonale ed è nostra speranza che altre aziende si propongano, come ha fatto appunto Iseo Serrature, per attività di questo tipo, che a livello europeo, specialmente in paesi come la Germania, sono attività quotidiane all'interno degli ordini scolastici, mentre invece in Italia sono delle prime sperimentazioni che sicuramente raccoglieranno buoni frutti.